Liga Bue ha dedicato una delle sue canzoni più famose, Una vita da mediano. Facile pensare a lui come incarnazione del ruolo, se si pensa al modo con il quale si è imposto all'attenzione generale, ossia lavoro e sacrificio, l'autentico operaio del pallone. Caratteristiche che lo fanno apprezzare molto anche dai tifosi. L'Ele Oriali si divide tra difesa e centrocampo, terzino o mediano, a seconda delle necessità. Dotato di notevole grinta e corsa, si apprezza per la rapidità con la quale scatta in avanti dopo aver rubato palla in tackle all'avversario. Troppo spesso inclina gli infortuni, vanta anche un discreto bagaglio tecnico che gli consente, tra le altre cose, di andare in rete con sufficiente continuità. La sua avventura in nazionale comincia abbastanza tardi, esordisce contro la Spagna nel 78, quando ha già 26 anni. Negli europei dell'80 è titolare nel ruolo di terzino. Due anni più tardi, ai mondiali, dopo due panchine iniziali, si impone come superbo mediano. Il momento migliore coincide con le ultime gare di quella fortunata competizione, la finale contro la Germania su tutte, nelle quali riesce a dare una spinta eccezionale. Lascia dopo appena 28 partite nell'83 contro la Svezia.